Rieccoci, Primo Sinterpares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite del sottosegretario governo al Ministero dell'Economia e delle Finanze Massimo Bittonci, che ovviamente lo ringrazio di nuovo, che è venuto a trovarci, a trovarmi. Abbiamo parlato del decreto sicurezza, adesso ci sono tante cose, ieri proprio l'altro ieri è uscito quello che il governo sta facendo con la banca Carigi. E ovviamente il buon Renzi ha detto, ma come? Quando lo facevo io mi dicevano che facevo l'interesse delle banche, loro, il governo, fa lo stesso che facevo io e nessuno gli dice nulla. Cosa risponde a questa? C'è un tema legato alla salvaguardia dei risparmiatori e degli azionisti, cioè se una cosa che non può essere imputato a questo governo è quello di essere amico delle banche, ma assolutamente, ma il governo precedente ha fatto molte misure e a favore ovviamente delle banche. La misura che abbiamo fatto noi, che è stata approvata in legge di bilancio, è un miliardo e mezzo, quindi una cifra estremamente alta, devo dire che forse è l'unico caso in Europa, a favore dei risparmiatori e degli azionisti. Ricordiamo che, e qualcuno ci seguirà anche questa sera, ci sono ben 200.000 persone che sono state colpite dalla crisi del sistema bancario, soprattutto siamo in Veneto, di Veneto Banca e Popolare Vicentina. Allora, il governo precedente aveva messo 100 milioni in un fondo, peraltro non erogati, e noi abbiamo pensato che questa cifra fosse assolutamente un'elemosina, una cifra ridicola, per cui in legge di bilancio ci c'è un miliardo e mezzo disponibili di soldi, quindi di soldi freschi. È stata scelta una linea che è quella del rimborso diretto di tutti quanti gli azionisti, fino al 30%, con un tetto di 100.000 euro. Io penso che questa sia assolutamente la strada giusta. C'è il tema di una possibile, quando si parla di aiuti di Stato e di banche, c'è il tema di una possibile, e questo lo dice centrosinistra, infrazione di carattere europeo, perché non tu rimborsi degli azionisti, ma noi pensiamo che questa può essere tranquillamente bypassata col fatto che i fondi sono stati recuperati sempre all'interno del sistema bancario e assicurativo, quindi non sono fondi che vengono da altre risorse, dalla tassazione dei cittadini, ma sono stati trovati grazie a una norma che prevede che le assicurazioni dormienti e i conti dormienti, cioè i conti bancari dormienti, quelli che non vengono poi chiesti dai cittadini perché sono morti, questi soldi, il primo gennaio di ogni anno si sa qual è il saldo dei conti dormienti, queste somme vanno a fare la copertura nella legge di bilancio a questo miliardo e mezzo che verrà erogato con una semplice domanda, adesso stanno ovviamente uscendo la modulistica e la tempistica per fare la domanda, verranno erogati a tutti i risparmiatori, quindi riconoscendo che c'è stata una truffa, questo l'abbiamo sempre detto, quando i risparmiatori non sono stati avvisati, anche se azionisti, qua ovviamente c'è il tema, ma questi sono azionisti, non hanno comprato dei bot, ma hanno comprato dei titoli che comunque erano quote o azioni e quindi c'era un certo margine del rischio, però è anche vero che quando un padre di famiglia, quando molti pensionati andavano in banca alla Popolare Vicentino a Veneto Banca e il direttore gli diceva compra le azioni di questa banca o della mia banca perché sono sicure, è stata insomma una mancata informativa. Quindi lei prevede che verranno rimborsati del tutto? Ma del tutto no, perché rimborsati tutti, parliamo di una cifra astronomica perché i risparmiatori hanno perso quasi 20 miliardi, però è l'inizio del ristoro soprattutto dei piccoli, dei pensionati, come dicevo prima, dei padifamiglia, infatti c'è un'agevolazione e una corsia preferenziale per chi ha un reddito inferiore ai 35 mila euro, per le persone anziane, per le persone in difficoltà che saranno i primi che verranno rimborsati. Ovviamente è una forma di aiuto, è una forma di ristoro, non può essere una compensazione per chi magari aveva là milioni di euro. E carige la stessa situazione delle banche vendite? Carige è una situazione difficile che è sotto attenzione del governo, bisogna sempre stare molto attenti quando ci sono situazioni di questo tipo, quelli che pagano sono ovviamente i risparmiatori, ricordiamo a chi ci ascolta che comunque la norma prevede quindi attenzione a non fare l'errore della corsa agli sportelli perché non esiste il problema dei correntisti, perché i conti correnti sono garantiti fino a 100 mila euro in Italia e quindi da ogni singolo conto e quindi non esiste, anche se una banca dovesse saltare, tra virgolette e dirle in maniera semplice, dovesse fallire, i conti correnti non sono mai a rischio perché hanno sempre la garanzia di 100 mila euro, quindi andare a prelevare adesso i soldi e le banche non serve assolutamente a nulla. Quelli che rischiano, rischiano ovviamente gli azionisti, cioè gli azionisti rischiano gli obbligazionisti, rischiano quelli che hanno creduto in quella banca, però ecco diciamo anche questo, una cosa è aver comprato le azioni delle banche popolari, che era una forma di investimento di un certo tipo, per quanto riguarda altre banche insomma io qualche dubbio ce l'avrei perché altre banche magari che sono anche quotate, devo dire che in realtà la componente speculativa è molto importante e quindi gli speculatori non vanno mai rimbossati. Lei è sottosegretario all'economia e alle finanze, ci sono stati ultimamente per via di tutto quello che è successo, della crisi, delle situazioni non gestite bene di fallimenti di certe banche, ci sono state molte fusioni di banche, come stanno le banche italiane oggi? Ma a livello europeo l'ultima analisi che è uscita qualche settimana fa ha indicato come alcuni gruppi bancari italiani sembrano siano i più solidi dal punto di vista della patrimonializzazione a livello europeo e questo fa capire che magari una politica di concentrazione delle piccole banche è stata una politica assolutamente positiva perché purtroppo il proliferare di piccole banche magari che erogavano credito senza controllo abbiamo visto che cosa ha portato, magari i grossi gruppi bancari che hanno anche una magari solidità di carattere patrimoniale, garantisce anche il consumatore finale, l'azionista e il correntista che i suoi soldi rimarranno comunque al sicuro, quindi io non sono dal punto di vista ideologico contrario ai grandi gruppi bancari. La cosa negativa dei grandi gruppi bancari ed è successo soprattutto in Veneto è che con la chiusura e con il fallimento e l'acquisizione da parte del gruppo intesa di Popolare Vicentina e di Veneto Banche che hanno acquisito tutta la clientela, tutto quanto il pacchetto, c'è stata una concentrazione ovviamente fortissima delle banche che ha messo in crisi non tanto il risparmiatore e il consumatore che è più garantito ma le imprese, nel senso che le imprese che avevano più aperture di credito e più fili presso molte banche, quando si sono viste concentrate su un'unica banca ovviamente il gruppo intesa, le altre grandi gruppi bancari hanno detto beh prima avevi più banche quindi determinate situazioni, siccome la tua situazione patrimoniale e Mifid è così dovrai assolutamente rientrare e questo ha messo in crisi ovviamente molte aziende perché magari prima avevano la possibilità di ottenere finanziamenti e aperture di credito e copertura sulle loro attività ovviamente corrente di gestione, cose che dopo magari i gruppi grossi concentrando ovviamente all'interno non hanno più permesso, quindi c'è stato un problema di crisi delle aziende perché si sono visti ridurre i castelletti, le aperture, i fidi... Però ritornando alla questione, lei è il sottosegretario, uno le faccio un ragionamento molto semplice a vantaggio del nostro telespettatore, uno fa un investimento in una banca, può rimanere tranquillo, oggi le banche danno più sicurezza di una volta a quelle che ci sono, le fusioni che hanno fatto, la banca d'intesa, ecco lei che è sottosegretario... Per questo che è emerso a livello europeo i nostri gruppi bancari sono più solidi rispetto agli altri perché per una scelta dovuta anche dalla normativa una parte importante ovviamente dei risparmi e della liquidità viene investita e quindi patrimonializzata, quindi le nostre banche a parte le banche piccole che ovviamente sono soggette ovviamente a momenti di crisi ma i grandi gruppi bancari non hanno questo problema. Ecco, nei gruppi bancari c'è il controllo dello Stato? C'è il controllo della Consob, c'è il controllo dell'ABI che diciamo francamente non ha funzionato nel caso di Popolare Vicentino e Vento Banca. Quindi le grandi responsabilità che vanno ricercate ed è positivo ovviamente quello che sta facendo il lavoro che sta facendo il Tribunale di Vicenza dove sono stati rinviati a giudizio ovviamente l'intero consiglio d'amministrazione, i rivisori dei conti, ecco è giusto che sia così perché se c'è anche un organo di controllo, l'organo di controllo assolutamente deve svolgere le proprie funzioni e quindi siccome emerge che sapevano che la situazione non era quella dei bilanci reali che sono stati depositati è giusto che paghino e paghino anche in proprio perché è ora di finirla che alcune persone che erano all'interno dei consigli di amministrazione magari erano là per prendere l'indenità e ovviamente il compenso e poi non hanno effettuato il controllo che doveva essere effettuato e così la responsabilità è anche della Consob e anche dell'ABI. Senta, una delle preoccupazioni che avevano gli italiani... Il governo su questo c'entra poco come anche, mi ricordo che qualcuno ha detto è colpa della Regione Veneto, adesso se vogliamo prendere in giro la gente la prendiamo in giro, ecco ci sono degli organi di controllo che devono verificare i bilanci assolutamente patrimoniali delle banche, sono loro che non hanno fatto partire dai rivisori dei conti delle società, a partire dalla società di revisione che hanno certificato i bilanci, a partire dalla Consob e dall'associazione bancaria italiana che doveva effettuare i controlli. Dire che è colpa del governatore o è colpa del governo è prendere in giro la gente perché politiche di questo senso da parte della Regione Veneto e da parte dello Stato nazionale, l'attività di controllo è estremamente residuale se non assente per quanto riguarda la Regione Veneto. Certo, una volta lo dicevo che prima per quanto riguarda la sicurezza, una volta era una colpa, lei è stato sindaco e sindaco ma è anche il questore, c'è anche il prefetto, purtroppo qui la burocrazia, poi le farò una domanda per quanto riguarda la burocrazia che il governo, beh la faccio già, ha fatto una bella cosa, ha detto ai sindaci, sentite voi potete fare dei bandi senza, non potete più fare dei bandi fino a 150 mila euro, cioè ovviamente potete investire dei soldi per dei lavori. Ci sono novità molto positive direi. Certo, e ovviamente arriva chi dice con questo sistema non c'è la sicurezza che l'appalto venga dato, cioè non riesci mai ad accontentare nessuno. Mamma mia, dopo 20 e passa anni di sindaco e di amministratore locale e lavorando anche in contemporanea perché ci sono sempre tenuto che è importante sempre avere la ricaduta e quindi il proprio lavoro che aspetta e quindi ho fatto l'amministratore per dedizione e per voler fare qualcosa per la gente, devo dire che questa è una cosa che fa ovviamente un po' sorridere. No ma io sono ancora finalmente dico un po' meno burocrazia, sono sindaco, deve fare un sorridere perché fare una gara per un importo di un'opera di 50 mila euro dove parteciperanno prettamente imprese locali e dover fare invece una gara europea dove magari partecipano aziende di tutta Italia e magari con gli avvocati a seguito e magari con il sistema del nuovo codice appalti che hanno bloccato tutti gli appalti in Italia, io penso che sia più opportuno a fare le giuste verifiche ma dopo, cioè prima si fanno le assegnazioni, vince una ditta, deve effettuare i lavori e dopo si fanno le verifiche, cioè bloccare l'attività dei comuni, è stato bloccare la possibilità di investire, di fare opere pubbliche. La politica di questo governo che ha liberato il patto di stabilità e quindi l'avanzo di amministrazione e quindi anche il sindaco di Padova o gli altri sindaci della provincia di Padova o di tutto il Veneto potranno finalmente spendere i soldi che hanno risparmiato, mi sembra che sia stata una scelta veramente intelligente, il fatto di dire abbiamo messo 400 milioni per tutti i comuni sotto i 20 mila abitanti che avranno 50, 20 mila euro ognuno per fare opere pubbliche e dovranno farle entro maggio di quest'anno, cioè è una cosa importante per dire noi i soldi ve li diamo, fate le opere adesso, avete i progetti, fate le opere, il fatto di aver innalzato la soglia secondo me è molto positivo e si rivedrà l'effetto nei prossimi mesi, la corruzione non si combatte con le norme legulee, si combatte facendo le verifiche, dicendo ma scusa ma perché tu hai nei conti correnti questi soldi, controlliamoli no, andiamo a controllare ma perché dobbiamo bloccare un comune, un sindaco che magari deve asfaltare le strade, primavera libertà fino a 40 mila euro, le strade si asfaltano in primavera, non si asfaltano né in agosto che è troppo caldo e né in inverno, allora la gente sappia che le strade si asfaltano in primavera, il sindaco non può col bilancio approvato a 31-12 fare tutte quante le gare e le cose così dopo arrivare che asfalta a novembre, ecco, cioè diamo la possibilità ai sindaci di dire voglio fare l'opera, voglio fare la rotatoria, avere una rotatoria, perfetto, quanto costa 150 mila euro, 149 mila euro così, faccio un avviso, va bene, partecipano tre professionisti, scelgo quello che mi progetto che mi piace di più, dopo faccio un altro avviso, partecipano cinque ditte, perfetto, delle cinque ditte guardiamo quella, anche il massimo ribasso d'asta, cosa che è inserita all'interno della ovviamente del codice, del vecchio codice, del codice degli appalti che andrà ovviamente modificato, il massimo ribasso d'asta vuol dire che la ditta disperata, va bene, che ha problemi magari di carattere finanziario, cerca di prendere quell'appalto al prezzo più alto possibile, sapendo già prima che non lo porterà mai a compimento, cioè che non lo chiuderà mai quella gara, cioè che non farà mai l'opera pubblica, che vincerà solamente per dare un po' di linfa, per poter dire alla banca guarda ho preso un'altra gara, dammi un'ulteriore dilazione e apertura, però quando avrà fatto la platea, quando avrà cominciato a mettere giù i cordoli della rotatoria, saranno finiti i soldi e non farà più i lavori, quindi anche la media, cioè per escludere, io ho sempre pensato che per escludere la possibilità delle ditta di mettersi d'accordo, tu elimini le ali, ovviamente il prezzo più alto e il prezzo più basso, dalle ditte che rimangono, tu fai la media, chi è sicuro di vincere con la media? Nessuno, perché può vincere di un euro uno o l'altro, quindi nessuno, quindi non si possono mettere d'accordo, questa è la realtà. Sul prezzo più basso le ditte si mettono d'accordo e dicono tu quanto offri? 50, io offro, vabbè ok, questa cosa qua la faccio io, quell'altra gara la fai tu, va bene? Certo. E non va bene? No, no, sicuramente una delle cose positive è stato che almeno il sindaco ha una soglia molto più alta, prima aveva 40 mila euro. Guardavano un po' di manutenzione, un po' di opere pubbliche, le possono fare i nostri 150 mila euro è diverso, mi veniva da sorridere prima quando avevate... Io sarei arrivato a 400 mila euro. No, vabbè, però 150 rispetto ai 40 mila è già tre volte di più. Perché una rotatoria piccola sono 150 mila euro, spieghiamo, cioè 200 metri di pista ciclabile, va bene, sono 100 mila euro. Un metro di fognatura è mille euro, ogni metro di fognatura, quindi quante metri di fognatura faccio con 150 mila euro? Certo, certo. Se stiamo con la testa pensando ai numeri e non alle stupidaggine. Sono delle cose, come ha detto prima lei, Massimo Bitonci, per quanto riguarda la prostituzione, per quanto riguarda i bandi che non servono a farli fino a 150 mila euro, che sono cose naturali, però la vita rende tutto più complicato e la politica anche, quindi viene una certa chiarezza in queste cose e credo aiuti anche la gente. Ma quante strade illuminiamo con 150 mila euro? Certo, è vero. Senti, aumenterà l'IVA? Fa da ridere o no? Aumenterà l'IVA? No, allora l'IVA per quest'anno è stata sterilizzata con grande sacrificio da parte del governo perché a me è dovuto mettere 12 miliardi. È previsto l'aumento per il 2020 e il 2021, però sono sicuro che in legge di bilancio troveremo le risorse per sterilizzarlo anche. È ovviamente una rincorsa di anno in anno, però noi siamo assolutamente contrari all'aumento dell'IVA perché l'IVA va a finire sui consumi, va a finire sui consumatori finali, ma è stato uno problema degli anni passati perché quando è stata aumentata l'IVA ed era stato previsto un incasso importante da parte dello Stato, mi ricordo 4 miliardi si pensava con l'aumento dell'IVA, dopo in realtà gli incassi sono stati molto inferiori. Perché? Perché tu quando vai a aumentare un'imposta sui consumi la gente compra meno e quindi le entrate dell'IVA sono state inferiori, quindi è inutile aumentare l'IVA perché la gente compra meno e quindi ci sono minori incassi e questa è una legge economica e fiscale che insomma andrebbe seguita. Quindi noi per quanto riguarda, nonostante le indicazioni di carattere europeo, perché questi sono vincoli di carattere europeo, questo è come al solito, tanto le elezioni in primavera speriamo di vincere e quindi di cambiare il fiscal compact e i vincoli europei con una maggioranza completamente diversa rispetto a essere assolutamente buone. E quindi togliere questi vincoli e non obbligare gli stati sovrani ad aumentare l'IVA magari trovando delle altre soluzioni. Confindustria è un po' arrabbiata con questo governo, non andrà bene, le industrie d'Italia non andranno bene, lo spread aumenterà, invece lo spread sta diminuendo, era su 2,60 mi sembra il valore. Mamma mia, il deficit sta diminuendo, lo spread è diminuito in maniera radicale perché secondo me è stata una posizione politica dove confidusti a livello nazionale, soprattutto il presidente Boccia, io assolutamente non ce l'ho col presidente, ho un buon rapporto con tutti quanti, anche con il presidente di Padova e tutti quanti gli industriali che peraltro sono anche amici, però alcuni di questi hanno preso una posizione politica durante la campagna elettorale, hanno appoggiato la linea Renzi, i Gentiloni, quindi sono trovati in difficoltà col governo Lega 5 Stelle. Io penso che, e continuo a ripeterlo, lasciateci lavorare, intanto le misure che abbiamo preso quest'anno, a seconda anche ovviamente le risorse che c'erano, cioè il nuovo regime forfettario per i piccoli imprenditori, adesso si apri la perdita IVA e sei un giovane paghi il 5% per 5 anni ed è estremamente agevolativa, il 15% per la flat tax fino a 65 mila euro, le detrazioni sull'IRES se tu investi in acquisto di macchinari, attrezzature, forze al lavoro invece del 24 paghi il 15 e quindi è importante, l'accellulare secca sugli affitti commerciali che prima non c'era, quindi anche adesso sugli affitti commerciali e negozi c'è il cellulare secca al 21% a gran richiesta, secondo me ci sono tante cose positive, tutte le detrazioni e le deduzioni sono inserite all'interno della manovra, ci sono cose che sono state poco pubblicizzate, perché c'era il tema dell'Europa, c'era il tema del deficit, adesso ho visto finalmente anche in ITG nazionali che ogni giorno c'è una scheda, va bene giustamente, dove dicono ristrutturazione edilizia, ecobonus e così, che fanno la lista delle agevolazioni e delle cose che sono state inserite, secondo me è molto positiva, quota 100 che finalmente partirà in aprile, quindi ho tante persone che conosco, che mi ringraziano e dicevano dove andare in pensione, lo tempore finalmente in primavera, dopo 38 anni di lavoro così posso andare, i precoci sono stati salvaguardati, il reto di cittadinanza finalmente si sta spostando, diciamo, da... E cosa ne pensa lei del reto di cittadinanza? Che potrebbe essere una misura positiva se una parte importante del reto di cittadinanza va alle imprese, cioè se l'impresa che assume la persona che ottiene il reto di cittadinanza trova un posto di lavoro e una parte di questo reto di cittadinanza va alle imprese per un tot di mesi, diventa una forma di incentivo e di spinta all'assunzione e al lavoro, quindi può essere una misura che se gestita male è puramente assistenzialista, se utilizzata bene può essere una misura del rilancio dei consumi e dell'economia reale. Ho la pubblicità, però prima le faccio una domanda perché poi rientro e cambieremo tema. Ci sono molti negozi che chiudono, il commercio per via dell'e-commerce, di Amazon, bisogna dirlo, insomma già in America abbiamo visto, chiudono negozi in tutte le città, io leggo qui l'hanno chiuso a colpa del sindaco e colpa di quell'altro, io credo che sia una situazione, ecco il governo in questo senso sta facendo qualcosa, Massimo Bitonci, oppure è impotente? Noi abbiamo intanto introdotto questa norma sulla cittadale secca affitti commerciali che dovrebbe aiutare, è stata fatta per i centri storici, quindi per aiutare la possibilità di affittare in centro storico. Si sta valutando tutto il tema delle chiusure, cioè di favorire la possibilità per i piccoli esercizi di tenere aperto le domeniche, ma non per le grandi istituzioni commerciali che fanno una concorrenza sleale, quindi su questo tema ci sono molte politiche che stiamo studiando per trovare una soluzione. Le faccio una domanda, se io acquisto un orologio, vado in un negozio, il negozio ovviamente lo sa anche lei, c'è la web tax che stiamo studiando, certo però delle spese costa 100 euro, lo prendo sull'e-commerce, mi costa lo stesso orologio con la stessa garanzia allo stesso tempo di arrivo, mi costa 30-40 centimari. Però a noi, prevista nel 2020, già in legge di bilancio, la web tax che andrà a colpire questo tipo di commercio di concorrenza sleale, cioè i grossi gruppi che vendono online, dovrebbe un po' aiutare a far tornare la gente. Dopo sa, io preferisco magari andare sempre in un negozio perché parli con la persona i giovani d'oggi no, i giovani d'oggi no. Dopo bisognerebbe trovare una soluzione perché ci sono persone che vanno a provarsi magari le scarpe al negozio e dopodiché vanno a ordinarsi la stessa misura, la stessa cosa su Amazon. Questo è un po' l'evoluzione del commercio mondiale, però è anche vero che c'è tutta una fascia di popolazione che preferisce andarsi a provare le scarpe, il vestito, per esempio il vestito, comprato online, diciamo. L'abbigliamento è una crisi pazzesca. Ma chi è che va a comprarsi una giacca, un vestito, una camicia online e magari vai su un negozio? Ecco, i negozi dovranno curare molto di più il servizio, c'è una maggiore specializzazione. Ho parlato con un manager. Sui prodotti informatici diciamo che il mercato è già chiuso, nel senso che alla fine se uno online lo trova a un prezzo più basso non c'è servizio che tenga, ma su tutti gli altri prodotti penso che servizio... poi pensiamo all'alimentare, pensiamo a... Anche quello però arriva tramite il e-commerce. Ho capito, ma insomma la gente piace che la spesa... Però guardi, onorevole, parlando proprio una settimana fa con un manager mondiale praticamente di investimenti. Mi diceva che i centri commerciali sono destinati a diventare tutti cattedrali nel deserto, cioè sono destinati tutti a non avere un valore e fra 5-6 anni si ritornerà ad investire nei negozi delle città. Non so se queste previsioni siano veritiere o meno, però era uno del sistema e diceva che fra 5-6 anni il ritorno è molto probabile. Come nei corsi storici ci sono dei momenti in cui ci sono dei picchi di queste cose e in cui ci sono dei momenti in cui la gente torna a coltivare la terra, torna a acquistare nei negozi. La storia si ripete, si dice. Compercon comincia a dire ma che vita sto facendo, magari mi do un po' una regolata. Certo. Cioè sono nella storia dell'umanità. Si ripete tutto. Si ripete, questa è la realtà. Quante persone sono tornate all'agricoltura? Ma sai che ci sono tanti giovani che tornano all'agricoltura? No, è vero, è vero. Perché? Perché magari dicono ma operare nel settore dell'agricoltura, coltivare un vigneto, fare una vita naturale, allevare, fare una vita sana in mezzo alla natura è una cosa negativa? Tanti stanno riscoprendo questo. Certo. E non è una fuga dalla lealtà, è la voglia di vivere anche in maniera diversa. Vado in pubblicità. Poi abbiamo la parte di chiusura che interessa a lei, voglio parlare un po' di Massimo Biton. C'è tra poco, rimanete con noi.